Siamo qui per aver ricevuto dei premi sia per quanto riguarda le scuole gemelle di Acquiterme, abbiamo preso una menzione sulla edilizia non residenziale Ex Novo, e il premio del pubblico con la casa di Carla. Entrambi i progetti si caratterizzano per l'utilizzo della metodologia BIM e per l'utilizzo di un brevetto che abbiamo ideato io e l'architetto Cova, la realizzazione dell'involucro edilizio estremamente performante con il sistema Pablock. Siamo ovviamente molto soddisfatti e lieti di questi riconoscimenti, vuol dire che quello che abbiamo fatto anni fa, ovvero incentrare l'attività dello studio sulla progettazione con metodologia BIM e spostare tutta l'attività progettuale sull'edilizia sostenibile e sull'architettura sostenibile è premiante. Passo la parola all'architetto Cova che è qui con me. Salve, sono l'architetto Cova, sono progettista della GP Project. Un'attenzione particolare che questo studio ha è proprio la fusione tra quello che è l'ecosostenibilità e la scelta dei materiali che rispettano natura e ciclo produttivo e l'integrazione con tutte le nuove tecnologie come la metodologia BIM che ci permette di approcciare qualsiasi tipo di progetto fondendo quindi una filosofia etica ma soprattutto la massima realizzazione energetica e pratica nel dalla progettazione alla gestione del cantiere. Questo ci ha permesso quindi di partecipare a queste settimane e di essere premiati ma soprattutto di rendere molto felici i nostri clienti e gli utilizzatori di questi edifici.